Video e correzione del colore su Adobe Premiere Pro. In una puntata precedente abbiamo parlato di strumenti per monitorare il colore in una delle nostre riprese video. In un video ancora precedente abbiamo parlato di come si espone e come si lavora con l'istogramma. Sono argomenti che è bene conoscere prima di tuffarsi nel video di oggi, quindi se non ne sapete niente io vi consiglio di andervi a recuperare i video che vi lascio in card. Oggi vi mostrerò un metodo per intervenire in maniera molto selettiva sul colore all'interno delle nostre riprese in Adobe Premiere Pro. Si tratta di un metodo con cui possiamo intervenire in maniera precisa ma senza fare selezioni, quindi non stiamo a fare selezioni o scontorni dei nostri soggetti, semplicemente andiamo con dei puntatori a selezionare dei colori o dei gruppi di colori oppure andiamo ad agire in base alla luminanza delle aree della nostra ripresa in maniera tale da essere molto incisivi sulle nostre modifiche. Andiamo a vedere come funziona. Abbiamo applicato il nostro plugin integrato Lumetri Color, che è il plugin di color correction all'interno di Premiere, quello che si usa nel 90% dei casi. Ora, sopportiamo tenacemente la vista del mio faccione, andiamo a selezionare 100%, così qui andiamo a vedere bene quali sono i colori su cui andiamo a lavorare. Nel momento in cui noi apriamo il nostro plugin di Lumetri Color, abbiamo all'interno una serie di voci. Quella che ci interessa oggi è curve, quindi andiamo ad aprire la tendina curve e al suo interno abbiamo prima di tutto le curve con i vari colori, proprio come troveremo all'interno di Photoshop, ma quello che ci interessa maggiormente oggi è Hue and Saturation Curves, quindi la sezione successiva. Andiamo ad aprirla e al suo interno troviamo una serie di diagrammi come questo. Cominciamo dal primo, che è Hue vs Saturation. Ora, questo grafico ci permette di andare a selezionare un colore, quindi noi possiamo selezionare una tinta, quindi Hue è la tinta, Saturation è la saturazione, noi possiamo selezionare una tinta e modificare la saturazione, quindi selezioniamo la prima voce, modifichiamo la seconda. Ancora più comodo abbiamo anche l'Eye Dropper Tool, quindi io posso per esempio andare a selezionare un colore all'interno della mia ripresa, quindi posso per esempio andare a selezionare i blu, vedete che mi sono stati creati tre punti. Ora, il punto centrale è quello che mi serve per agire e fare la mia modifica, mentre i due punti laterali servono a bloccare la mia modifica, a limitarla a questo range di colore, in maniera tale che io sto influenzando i blu che ho selezionato, ma non sto influenzando per esempio i viola e i magenta, e non sto influenzando gli azzurri. Ora, nel momento in cui io vado a cliccare, vedete che mi si crea una barra verticale, questa barra verticale avrà il bianco in fondo, come potete vedere qui diventa bianca, mentre avrà un blu più intenso in alto. Questa modifica ovviamente si riflette sulla mia ripresa, nel senso che se io vado a tirare giù questo cursore, ovviamente in ripresa il mio blu sarà meno acceso, mentre se vado a portarlo in alto, il mio blu dovrebbe essere più saturato. Ora, io posso anche agire su queste maniglie, ovviamente per includere un'area più ampia, e vedete che se prima la modifica non era molto evidente, adesso lo diventa molto di più. Adesso se io vado a eliminare questa porzione di colore, vedete che ho rimosso il blu dalla mia faccia. Qui, come potete vedere, c'è ancora un po' di pigmentazione, che chiaramente è questa, quindi se io vado ad allargare quest'area, probabilmente vado a rimuovere anche quell'area. Vado a portare la mia selezione un pochettino più a destra, ed ecco che sostanzialmente ho rimosso quasi tutta la tinta blu dalla mia faccia. Rimane un pelino di magenta qui, si può andare a intervenire in maniera ancora più incisiva, e come potete vedere ho rimosso quasi completamente il colore dalla mia faccia. Ovviamente se avessi voluto fare il contrario, non avrei fatto altro che prendere questa campana e portarla in alto. Vedete? In questa maniera sto accendendo il blu invece di spegnerlo. Quindi questo è un metodo che mi permette di agire sui singoli colori. Ovviamente io potrei fare una seconda selezione, poi andare a selezionare per esempio il colore dei miei capelli, vedete? E qui mi creerebbe una seconda selezione, e qui nuovamente potrei andare ad agire in maniera molto selettiva e molto precisa solamente su quel colore. Ovviamente posso fare tutte le selezioni che voglio, fin tanto che non si sovrappongono una con l'altra, perché a quel punto diventerebbe un problema. Se voglio vedere il prima e il dopo è sufficiente che vado a fare attivo o inattivo. Se voglio eliminare le mie modifiche, posso andare a ripristinare tutto com'era di default per l'intera sezione oppure solamente per il grafico che sto vedendo in questo momento e quindi vado a premere su questo bottone con la rotellina e così ho ripristinato la mia situazione di partenza. È tutto chiaro fin qui? Colgo l'occasione per ricordarvi che questo è un canale che tratta spesso temi come la fotografia, il videomaking e il design. Se questo video ti sta piacendo ti consiglio di iscriverti perché arriveranno presto altri contenuti sulla falsariga di questo. Fino a qui è stato interessante, ma adesso scrolliamo in basso e andiamo a scoprire un nuovo grafico. Qui abbiamo Hue vs Hue, ovvero tinta che seleziona la tinta. Quindi noi possiamo andare a selezionare una tinta e possiamo andare a modificarla questa volta. Per cui io andrò a prendere il mio eyedropper, andrò a selezionare i miei blu. Questa volta vedete che quando clicco non si crea più una barra della saturazione, cioè una barra con il bianco in basso e il blu più acceso in alto, ma si crea una barra della tinta. Quindi io qui sto andando a modificare la tinta. Infatti come potete vedere, se io porto in alto o in basso il mio cursore, sto andando a agire su quello che è il colore selezionato, non la sua saturazione. Andiamo a fare la stessa operazione di prima, ovvero andiamo a espandere un pochino il campo d'azione e ricordiamoci che più lo espandiamo e più sarà morbida la transizione, più lo restringiamo, più rischiamo di avere una situazione come questa con dei pixel che vengono fuori un po' sparati. Quindi io vado ad ampliare la mia sezione in maniera tale da selezionare tutta l'area blu in maniera più morbida possibile. A questo punto ovviamente se faccio delle modifiche piccole il mio risultato sarà più gradevole, se faccio delle modifiche drastiche cominceranno a venire fuori delle cose, degli artefatti che non voglio vedere. Quindi è anche importante lavorare bene in camera per cercare di fare delle modifiche minime. Vedete, se io voglio spostarmi sui complementari, quindi da un blu voglio spostarmi su un azzurro o su un verde acqua, posso farlo. Ma se da un blu voglio spostarmi su un rosa comincia a mostrare il fianco abbastanza pesantemente. Quindi lo possiamo fare come ultima risorsa sapendo che c'è una caduta qualitativa, ma è molto meglio se facciamo degli spostamenti piccoli. Quindi io posso per esempio dal mio colore di partenza, che più o meno è questo, posso andare a virare un pochino verso il violetto, posso andare a virare un pochino verso il verde acqua. In questo caso la mia modifica è abbastanza indolore. Vedete che se faccio prima e dopo si vede la modifica, può essere quello che volevo perché ho cambiato effettivamente questo colore, però non ho fatto una cosa così drastica da rovinare la mia ripresa. Andiamo a posizionare un secondo punto, vediamo se riusciamo anche a cambiare il colore in quest'area. Ovviamente nel momento in cui io vado ad agire sul colore dei miei capelli entrano in gioco anche tutti i toni della carnagione, quindi questo diventa più complicato da fare per quanto riguarda il colore dei miei capelli, quindi si renderebbe necessaria una selezione. Perché appunto il colore dei miei capelli coincide con il colore della carnagione, quindi vedete che nel momento in cui faccio questa modifica non sto alterando la modifica che ho fatto in precedenza e non sto alterando lo sfondo, perché non ci sono questi colori sullo sfondo, però sto alterando i toni della mia carnagione. Quindi questa è una modifica in questa area che io sconsiglio caldamente, specialmente se ci sono degli skin tones, perché andranno, come si dice, a farsi benedire. Ora, se quello che abbiamo fatto ci piace, lo teniamo, se invece lo vogliamo eliminare, di nuovo possiamo resettare con questa rotella e qui abbiamo ripristinato l'immagine iniziale. Procediamo e andiamo a scoprire un nuovo grafico che è Hue vs Luma. Ora, in questo caso, abbiamo un diagramma che ci permette di modificare la luminosità basandoci sulla tinta. Quindi noi possiamo andare a selezionare una tinta, per comodità, continuo a selezionare il blu, perché è un colore che rimane abbastanza isolato, quindi mi viene anche abbastanza facile lavorare lì. E qui, come già visto, abbiamo la nostra selezione. Ora, nel momento in cui io clicco, come potete vedere, qui abbiamo una situazione di nuovo diversa, perché abbiamo il bianco in alto e il blu più denso in basso. Questo che cosa significa? Che nel momento in cui io porto in alto, sto schiarendo il colore che ho selezionato, mentre quando vado in basso lo sto scurendo. Infatti vedete da quello che sta succedendo sull'immagine che ho scurito. Ovviamente ho scurito una selezione molto molto piccola, quindi di nuovo, come già visto, vado ad allargare la campana in maniera tale da abbracciare il più possibile il colore che voglio selezionare. Glielo vado a dare anche abbastanza morbido per evitare che ci siano appunto artefatti. Come già detto in passato, più è piccola la mia modifica e più sarà gradevole, perché se io faccio una modifica piccola di questo tipo è passabile e risulta quasi invisibile. Se io faccio una cosa di questo tipo non è più invisibile, perché qui si vede che è artificiale, si vede che ci sono delle righe troppo nette e dei pixel che mostrano un pochino il fianco. Nonostante questa sia una ripresa realizzata abbastanza bene, perché comunque è un filmato log con i colori che sono 10 bit 422, quindi è una ripresa molto buona che si presta a questo tipo di lavori. Però ci vuole un po' di testa quando si fanno questi lavori e dobbiamo comunque essere delicati nelle nostre modifiche. Una modifica di questo tipo è assolutamente passabile. Anche qui siamo in un margine di decenza. Se cominciamo a fare una modifica di questo tipo chiaramente è troppo e si vede che è stata editata e noi vogliamo un editing il più possibile invisibile. Ora noi andiamo a selezionare anche quest'area e andiamo a vedere che io posso per esempio andare a schiarire solamente quest'area in base alla tinta. Quindi seleziono quella tinta e vedete che in questo modo riesco ad agire solamente sui toni dell'incarnato. Quindi posso schiarire o scurire solamente i toni dell'incarnato. Questo è utile perché io potrei voler agire appunto sull'incarnato ma senza elaborare lo sfondo. E quindi lo sfondo avendo una tinta diversa in questo caso riesco ad agire efficacemente solamente sui toni dell'incarnato. Andiamo a vedere un prima e un dopo vedete che c'è una bella differenza. Quindi questo è uno strumento abbastanza utile. Come già visto in precedenza se vogliamo eliminare le modifiche non abbiamo altro da fare che premere su questa rotellina. Ci avviciniamo alla fine e andiamo a vedere che nel prossimo grafico non abbiamo la tinta come selezione base ma abbiamo luma versus saturation. Questo significa che andiamo a selezionare la luminosità e andremo a modificare la saturazione. Ovviamente dobbiamo immaginarci un histogramma classico per cui a sinistra avremo i neri in mezzo avremo i mezzi toni e sulla destra avremo le alte luci. Ora in questo caso andremo a lavorare in maniera lievemente diversa. Andremo quindi a creare dei punti quindi come abbiamo fatto in precedenza col selettore solo che questa volta lo facciamo a mano e vedete che se andiamo ad agire su questi punti stiamo lavorando sulla saturazione solamente delle aree più chiare. Io potrei a questo punto andare a diminuire la saturazione solo in quelle aree più chiare. Ovviamente posso lavorare sulla mia campana in maniera tale che mi dia il risultato che voglio e quindi posso andare ad agire selettivamente sulla saturazione in base alla luminosità della mia scena. Quindi posso per esempio desaturare solamente le alte luci è quello che sta succedendo in questo momento. Oppure potrei andare a saturare maggiormente solo le ombre. Quindi vedete che sostanzialmente sto agendo sullo sfondo. Sono andato a saturare lo sfondo che è una cosa che normalmente non voglio però qui è per fini dimostrativi. vedete che anche il blu viene a essere lievemente arricchito mentre i toni della mia carnagione sono desaturati perché ho privato tutto questo range della saturazione che c'era nella ripresa originale. Questa è una cosa che non si fa molto spesso però può essere utile per andare ad agire selettivamente in tal unicasi. Come già visto in precedenza se vogliamo annullare tutto abbiamo la nostra rotellina che ci permette di tornare all'immagine di partenza. Bene amici se siete arrivati fin qui stiamo lavorando sull'ultimo grafico che abbiamo a disposizione in questa sezione ed è Saturation vs Saturation come avrete già capito si tratta di uno schema che ci permette di elaborare la saturazione basandoci sulla saturazione già esistente all'interno della nostra immagine. Questo significa per esempio che noi potremmo innanzitutto se attiriamo un singolo punto e aumentiamo questo vale anche per gli altri grafici stiamo aumentando la saturazione per intero se creiamo un secondo punto e lo trasciniamo in basso vedete che stiamo fondamentalmente andando a creare una S e con una S quello che possiamo fare è che stiamo togliendo la saturazione dove ce n'è poca e la stiamo mettendo dove ce n'è tanta. Questa è una modifica che può cambiare la nostra immagine in talunicasi ovviamente possiamo fare anche il contrario ovvero possiamo diminuire la saturazione dove è tanta e possiamo aumentarla dove era poca. Questa è una cosa che si avvicina di più alla Vibrance perché dovrebbe darci un risultato naturale nel senso che non dovrebbe andare a saturare troppo le parti che sono già oversaturate mentre potrebbe aggiungere un po' di colore dalle aree che ne sono prive. Ovviamente anche qui dobbiamo essere delicati nella nostra modifica quello che ho fatto io adesso vedete che potrebbe anche avere senso ma risulta già un po' troppo quindi la chiave in questo tipo di modifiche è comunque essere delicati perché più noi siamo delicati più possiamo fare delle modifiche invisibili che regalano un plus alla nostra immagine ma senza distruggere i pixel senza disgregarla e senza rendere evidente che questa sia stata manipolata a computer l'importante quando si fanno modifiche selettive soprattutto in questo caso che stiamo agendo sui singoli colori è importantissimo non creare una separazione netta tra i colori quindi non creare artefatti non creare pixel che si discostino troppo fra loro se riusciamo a lavorare in quest'ambito senza andare a distruggere l'immagine originale abbiamo fatto tendenzialmente un buon lavoro andiamo ora a vedere un esempio di come tutti questi pannelli possono lavorare anche in maniera combinata quindi io potrei andare innanzitutto a selezionare i miei soliti blu posso andare ad allargare la mia selezione ovviamente perché così non mi basta vado ad allargarla fin qui e adesso vado ad agire sulla saturazione e vado ad aumentarla un pochino vedete così è tantissima così è a zero io vado ad aumentarla giusto di un pochino andiamo a vedere il prima e il dopo ok l'ho aumentata quel tanto che mi basta andiamo ad agire ora sulla tinta voglio andare a fare una selezione più o meno nello stesso punto vado ad allargare nuovamente la mia selezione più o meno in questa maniera andiamo ad agire sul blu e lo andiamo a modificare lievemente in che maniera lo modifichiamo questo dipende solamente dal nostro gusto in questo caso io potrei fare una cosa del genere perché giusto per fini dimostrativi non mi interessa veramente il risultato è solamente per andare a vedere come abbiamo modificato la nostra immagine potrei anche andarmi a pescare una seconda selezione in quest'area e potrei vedete così sto agendo sull'incarnato così lo porto verso i gialli così invece lo porto verso i rossi una cosa del genere a me non dispiace perché ho eliminato un po' di giallino dal mio incarnato gli ho dato un pochino più di rosso forse ho esagerato facciamo una cosa tenue una buona regola che ho imparato dal mondo dell'audio è che quando la modifica è visibile è già troppa quindi quando la modifica risulta palese ai nostri occhi dobbiamo già tornare uno step indietro ora Hue vs Luma io vado a selezionare la mia solita area che a questo punto vedete che risulta diversa perché sono state fatte delle modifiche precedentemente quindi io adesso vado a farmela a mano la mia selezione perché altrimenti in virtù delle modifiche che ho già fatto vado a selezionare il colore sbagliato quindi vado a selezionare quest'area e in questo caso la voglio scurire un pelino quindi non troppo non bisogna esagerare vedete che qui già c'è un po' di artefatto perché c'è il gradiente che passa tra la luce normale e la luce colorata che un pochino si vede quindi questo già non va benissimo ho già esagerato nelle mie modifiche però proseguiamo perché vi faccio vedere il procedimento completo ora luma versus saturation a questo punto nuovamente vado a selezionare un'area che mi interessa in questo caso vado a selezionare sempre quest'area lo faccio a mano di nuovo perché altrimenti potrei avere dei problemi vedete cosa succede in questo caso sto aumentando la saturazione in base alla luminosità in questo caso devo dire che questa modifica secondo me è abbastanza ininfluente perché visto quello che ho già fatto non c'è assolutamente bisogno di utilizzare questo pannello andiamo a vedere saturation versus saturation e io quello che farei in questo caso vedete potrei aumentare la saturazione di tutto quanto oppure potrei fare quello che ho fatto prima ovvero potrei andare a mitigare la saturazione dove l'immagine è già molto carica e potrei andare ad aumentarla appena appena nelle aree dove ce n'è poca quindi andiamo a vedere il risultato finale vedete che è molto sottile come effetto però gli dà un qualcosina in più adesso torniamo in cima e andiamo a vedere questo intero pannello che cosa sta facendo vedete che è molto sottile la differenza nel momento in cui andiamo a spegnere i nostri risultati abbiamo un'immagine che è appena lievissimamente modificata però siamo partiti da un'immagine log che era così quindi abbiamo tirato fuori tanti colori che prima non c'erano abbiamo modificato la nostra immagine in maniera molto incisiva questo è un processo di color correction base che noi possiamo fare sulle nostre immagini andando in profondità a selezionare i colori che ci interessano per modificare solamente quelli l'importante come vi dicevo è che partiamo da una ripresa buona che ci permetta di farlo quindi una ripresa fatta con strumentazione professionale o almeno semi professionale le riprese fatte con lo smartphone sicuramente non vanno bene per questo tipo di lavorazione perché avranno una caduta qualitativa evidente abbastanza sgradevole anche con modifiche molto lievi in secondo luogo dobbiamo essere molto delicati nelle nostre modifiche dobbiamo fare delle curve piccole e con delle campane ampie se noi facciamo delle selezioni piccole con delle curve molto tirate avremo degli artefatti molto prima avremo degli effetti collaterali molto evidenti se facciamo un lavoro di questo tipo avremo dei pixel che vengono molto fuori che lasciano molto intendere che l'immagine sia stata lavorata invece se facciamo delle campane ampie con degli spostamenti piccoli avremo un'immagine che tende a rimanere gradevole bene amici come avete potuto vedere si tratta di uno strumento abbastanza complesso che ci permette di avere un grado di profondità abbastanza elevato sul colore della nostra ripresa possiamo sostanzialmente fare quasi tutto quello che vogliamo ovviamente se abbiamo una ripresa che si presta riusciamo a fare una modifica incisiva senza che la ripresa deteriori quindi se abbiamo girato con un iPhone sicuramente non potremo andare molto avanti nel nostro editing perché le riprese fatte con un cellulare per quanto la modalità cinema dell'iPhone 14 Pro sia strafiga presta molto il fianco a quelli che sono interventi di questo tipo mentre se lavoriamo su un file fatto bene quindi una ripresa fatta con una fotocamera o videocamera professionale o semiprofessionale abbiamo più spazio per fare interventi di questo tipo senza avere una caduta qualitativa evidente a questo punto se avete seguito fin qui questo video io vi chiedo un like così mi aiutate con l'algoritmo lasciatemi anche un commento se avete curiosità o domande su questo tipo di intervento fatemi anche sapere se voi lavorate in maniera diversa io purtroppo non ho mai usato DaVinci Resolve quindi sono anche curioso di sapere la vostra esperienza se utilizzate un sistema diverso da Premiere so benissimo che Resolve è meglio di Premiere per questa cosa però io ho sempre lavorato su Premiere ho un flusso di lavoro che mi porta in questa direzione a essere sempre interlacciato al mondo Adobe all'ecosistema Adobe e quindi ho sempre lasciato fuori DaVinci Fatemi sapere se questo è stato l'errore della vita che ho commesso oppure se secondo voi i due sistemi sono equipollenti con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video Grazie a tutti